Salve ragazzi ed eccoci ad un nuovo video, ad una nuova recensione. Vi ricordo subito però di iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulla nuova uscita del canale YouTube. Cerchiamo di crescere un po' come community. E prima di passare, come sempre, al video vero e proprio, sigla! Bene, oggi ho deciso di parlarvi. Spero che il video riesca a uscire il giorno in cui mi auguro, il giorno che l'ho pianificato, ovvero mercoledì 20 aprile, perché così posso portarvi questo contenuto in anteprima, proprio perché ho avuto il piacere di assistere alla proiezione stampa a Milano di questo film, che avrete capito dal titolo qua sotto, ovvero The Northman, il nuovo film di Robert Eggers, un autore, un cineasta statunitense che ha scritto questo film e ha diretto appunto questo suo terzo titolo della sua ancora breve filmografia, composta da altri due film di un calibro altissimo. Vedi The Witch, un esordio stratosferico per un giovane autore e che ha proseguito il discorso con un altro fantastico film che è The Lighthouse, uscito mi pare nel 2019. Due film che ne hanno già consacrato l'autorialità di questo giovanissimo cineasta che è alle prese appunto quest'anno, che domani arriverà, o meglio giovedì, non so quando uscirà questo video, giovedì 21 aprile, uscirà nelle sale il suo terzo film, The Northman, che ci racconta una storia ambientata in un'Islanda del decimo secolo. Il protagonista è un giovane principe di nome Hamlet, protagonista dell'omonimo episodio narrato da Saxo Grammaticus, il quale era poi stato riadattato da Shakespeare nell'omonima tragedia, e quella sicuramente che conoscete tutti quanti. E ci racconta appunto di Hamlet che deve e vuole vendicare la morte del padre per mano appunto di suo zio. Senza fare troppi spoiler, anche se appunto questo è l'incipit che si vede nel trailer, di cui sicuramente conoscete già tutti i risvolti, senza appunto andare a spoilerare niente di questo interessante film, si tratta di una storia ambientata fra tribù vichinghe. E naturalmente il life motive principale è questo senso di vendetta da parte del protagonista. Il risultato è un'epica avventura vichinga. Le atmosfere, i personaggi, i costumi, le scenografie, tutto ricorda quell'epoca e catapulta lo spettatore proprio all'interno di quell'immaginario. È incredibile come la violenza, le atmosfere, tutto ciò che circonda i protagonisti e le varie loro scelte riescono a mostrare proprio ciò che secondo me il regista voleva appunto mostrarci, il suo sguardo, la sua visione di questa epopea, di questo viaggio interiore ed esteriore del suo, del nostro protagonista. Partiamo subito dal sottolineare il fatto che si tratta di un film sicuramente con un budget molto diverso e molto più alto rispetto ai suoi precedenti film. The Witch e The Lighthouse sono due film quantomeno che possiamo considerare più indipendenti, quindi con poco budget, ma che hanno soprattutto il secondo stupito critica e pubblico. E quindi hanno permesso appunto alle varie case di distribuzione e produzione di puntare appunto su Robert Eggers e grazie a Universal arriva in sala questo suo nuovo film. Ed il cast è ricchissimo comunque di grandi nomi, o almeno per quanto riguarda i ruoli principali. Abbiamo infatti Ethan Hawke nel panni di questo re vichingo e Ethan Hawke è un attore che sicuramente abbiamo sempre visto in panni comunque diversi, anche se in questi ultimi anni ha interpretato, interpreta tuttora, dei personaggi ambientati in epoche diverse. L'abbiamo visto come un cowboy, l'abbiamo visto come nella serie Moon Knight, nei panni di questo santone che segue appunto, è molto interessato alla divinità egizie, e in questo caso abbiamo, riesce ad interpretare un vichingo in piena regola, nonostante appunto mi sarebbe piaciuto vederne ancora un po' di più, ma il ruolo appunto del suo personaggio viene del tutto sviluppato e rimane comunque la sua aurea durante tutta la narrazione del film, proprio grazie alla grandissima interpretazione di Alexander Skarsgård, attore che riesce a portare questo Hamlet in una maniera secondo me divina. Aiutato oltretutto da una splendida Anya Taylor Joy che torna per la seconda volta in un film di Robert Eggers, grandissima la sua partecipazione e collaborazione nel film The Witch, film che ha oltretutto fatto iniziare, ha spinto diciamo la sua carriera ed è per questo motivo che adesso è molto più conosciuta, ma in più non mancano anche le interpretazioni di Nicole Kidman nei panni di questa regina e la mamma appunto di Hamlet e di Willem Dafoe nei panni di questo folle personaggio. Un cast che devo ammettere riesce a rispettare, almeno per quanto riguarda me, le attese. Secondo me con questo film e con questo film di Eggers ci troviamo di fronte a qualcosa di parecchio visionario. È innegabile che quando soprattutto si arriva nella parte centrale del film sembra di trovarsi di fronte a non più ad un'opera strettamente cinematografica, ma anche a qualcosa di più teatrale. Questo mi ha ricordato molto anche quello che abbiamo potuto, o almeno chi l'ha recuperato, abbiamo potuto vedere con il Macbeth di Joel Coen che trovate su Apple TV+. È un'impostazione che crea questa teatralità che secondo me riesce a risultare positiva all'interno della narrazione, della struttura in sé proprio del progetto, del film. Gli elementi che ci vengono raccontati sono fin dal primo momento brutali, dove la violenza la fa da padrone, ma questa brutalità, questa violenza non si trova tanto in ciò che viene mostrato, cioè si trova anche lì naturalmente in larga scala, ma in realtà più in quanto ci viene raccontato. Secondo me si tratta di un film molto coraggioso perché sicuramente dividerà critiche pubblico. Credo che riuscirà ad ottenere tanti riscontri magari positivi quanto lo è il mio di riscontro verso questo film, ma anche parecchi pareri un po' più contrastanti, più negativi, perché forse si aspettavano qualcosa di diverso. Si tratta di una tipologia di genere che sicuramente è già stata trattata mille, mille volte, ma come ad esempio nel film in direct, Valhalla Racing, questa volta secondo me c'è qualcosina in più. C'è una storia che, nonostante anche questa sia poco originale, viene resa proprio originale da come viene messa in scena. L'importanza di molti film che trattano magari elementi più conosciuti, o che abbiamo già comunque visto in altre tipologie di film, in altre tipologie di prodotti anche solo televisivi, è l'originalità della messa in scena, la capacità che ha un vero e proprio autore, nonostante sia solo al terzo film, che riesce appunto a dare alla sua pellicola, al suo prodotto. E Eggers secondo me c'entra proprio il punto della questione, è molto grafico, è molto dettagliato, sembra strutturato con un certo tipo di progetto che parte dall'inizio alla fine andando proprio a chiudere in una sorta di cerchio. E tu, spettatore, non fai altro che seguire la narrazione, riesci secondo me, almeno io quello che ho provato, a essere molto partecipe rispetto a quanto stavo guardando e oltretutto i vari aspetti tecnici riescono a restituire proprio, secondo me, tutto ciò che il regista ci voleva mostrare. Ed è incredibile come anche gli stessi attori, sia quelli un po' più conosciuti, sia quelli meno, riescano a calarsi perfettamente nelle parti, Eggers si dimostra anche un ottimo direttore dei suoi, dei propri attori, che oltretutto riescono a restituirci prove, anche se magari in minima parte, anche se si vedono poco sullo schermo, almeno subito post-visione indimenticabili. Sicuramente non si tratta di un capolavoro, io reputo ancora oggi i primi due film, sia The Witch, che secondo me è il migliore, sia The Lighthouse, altrettanto riuscito, sicuramente un gradino ancora sopra. Resta il fatto che ci troviamo di fronte sicuramente a un film imperdibile, che sicuramente vi consiglio di andare a recuperare, non solo se vi piace quel tipo di genere di film, ma perché sicuramente merita di essere visto sul grande schermo. Inoltre è un altro di quei progetti che comunque ha subito le conseguenze del Covid-19 per quanto riguarda l'ambito della settima arte, ma appunto adesso arriverà nelle sale dal domani, sperando che questo video esca proprio il mercoledì 20, arriverà appunto giovedì 21 aprile nelle sale e mi raccomando cercate, se potete, di andarlo a vedere, anche perché così mi fate sapere con un commento qua sotto cosa ne pensate voi di questo film. Un film, The Northman, che insomma, secondo me è super riuscito, è a tratti visionario, è a tratti super descrittivo, riesce a portarti quel tipo di violenza, quel tipo di azione che riesce in parte ad essere più edulcorata a tratti no e si muove attraverso questi vari risvolti che ha all'interno della trama, che riescono a coinvolgere e riescono a portarmi a dire che Eggers è sicuramente uno di quei cineasti in questo momento tra i più grandi, tra quelli che riescono a dare molto al cinema, alla settima arte, che sicuramente creano curiosità nel prosieguo della carriera, ma si tratta di Eggers, ma come dello stesso Wright, che sicuramente ha una carriera molto più grande alle spalle in questo momento, si tratta anche dello stesso Paul Thomas Anderson, forse il regista contemporaneo tra i più grandi sicuramente, e ci mostra come ancora una volta i veri autori riescono a portare in sala sul grande schermo questi film che meritano di essere visti, che danno nuova linfa vitale ad un settore che, è innegabile, pian piano sta cominciando a zoppicare, non solo per quanto riguarda la distribuzione, ma anche per quanto riguarda le grandi produzioni, che sembrano puntare sempre di più su qualcosa di fin troppo visto, sempre tutto uguale, e ai limiti della serialità, quella che siamo stati abituati fino a poco tempo fa a vedere solamente in televisione, mentre adesso sta arrivando purtroppo, o fortunatamente questo decidetelo voi, per me purtroppo, anche sul grande schermo. Mi raccomando, recuperate questo film di cui trovate oltretutto la recensione scritta non mia, ma del mio collega Alessio Minorenti su Quarta Parete, di cui vi lascio naturalmente il link qua sotto, in descrizione come sempre, dove potete trovare anche il sito web di Quarta Parete. Detto questo, vi ricordo che se vi è piaciuto potete lasciare una che condividero sui vostri vari social, noi ci vediamo sicuramente ad una prossima recensione, arriverà sicuramente la recensione di, la video recensione di Moon Knight Episodio 4, molto interessante, arriverà venerdì, questo venerdì, ma non vi trovate solamente qua su YouTube, ma anche su Facebook, Twitter e Instagram, vi guardate tutti i link qua sotto, in descrizione. Se ne siete ancora sui siti del canale, iscrivetevi, cosa aspettate, attivate la campanella per andare sempre aggiornati sulle nuove uscite, sui nuovi video, e noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao! Ciao!